Quindi da adesso fino al 5 giugno, adrenalina vulcanica allo stato puro, caricatevi in modo naturale perché Napoli ne ha le potenzialità, amore, bellezze, energie, umanità, uomini, donne, femmine, trans, primi e tu quattro. Tutti quanti con noi, tutti quanti con noi, quindi andiamo avanti, viva Napoli, viva la rivoluzione, viva il popolo, vinceremo, Napoli nel cuore sempre, vinceremo, ne sono assolutamente cento, però al primo turno vi dovete aiutare voi, che vinciamo gli ori con le sti vuoi, al primo turno dipende pure da voi, primo turno dipende pure da voi. Prendiamo questo legame sociale indissolubile, si vince al primo turno senza se e senza ma e poi tutti quanti a festeggiare nei luoghi liberati della nostra città, viva Napoli, viva la rivoluzione, viva il popolo, vi amo e grazie per quello che vi avete dato in questi cinque anni, grazie. Grazie, siamo molto, molto radici.